se per caso nel corso delle ultime settimane vi è capitato di passare dalle parti di palazzo strozzi nel centro storico di firenze avrete notato una grandissima immagine che copre per intero una delle facciate del palazzo questa è un'opera di jr che si intitola la ferita jr è un artista francese che lavora con la fotografia con il collage a partire da fotografie e che ha scelto di non usare i musei o le gallerie come propri spazi di esposizione ma la città è quel che si dice uno street artist un artista che sceglie di esporre le proprie opere nello spazio pubblico jr è proprio il regista e l'artista che sta dietro a women are heroes il film che stiamo per vedere women are heroes è un progetto che jr ha sviluppato in diversi luoghi del mondo tutti luoghi molto complicati da vivere ad esempio una favela rio di janeiro oppure i quartieri poveri di nairobi in kenia oppure ancora la comunità che lavora e che abita una discarica in cambogia tutti questi luoghi sono accomunati nella visione di jr da un unico protagonista un protagonista collettivo che sono le donne donne che spesso sono vittima di violenze di stupri di abusi e che proprio per questo jr ha deciso di celebrare perché nonostante tutti questi soprusi riescono a rimanere perno delle comunità che abitano e a sostenerle con la loro forza e per celebrarle jr ha deciso di riprodurre i loro visi i loro sguardi i loro sorrisi riproducendoli a grandissima scala sulle pareti degli edifici dei quartieri che abitano e quindi in qualche modo cambiando la faccia come vedrete a interi quartieri a intere città e mettendo di nuovo al centro rendendo protagoniste le donne che abitano questi quartieri così difficili